Il vaccino chiama? La Sardegna risponde. A poche ore dall'apertura delle prenotazioni per la terza dose vaccinale agli over 40 si è registrato un vero e proprio boom di richieste, ben 19.000 alle 18 di ieri. Il presidente Solina si dichiara assolutamente orgoglioso di questo record e della grande maturità civile dimostrata dal popolo sardo. A fronte di questi numeri sarà ora necessario impiegare al meglio le risorse offerte dalla regione, potenziando i servizi degli UB vaccinali e assicurando il prosiegue della campagna vaccinale. È importante infatti, conclude il presidente Solinas, non abbassare mai la guardia e non smettere di insistere sul ruolo fondamentale che la vaccinazione ricopre nella lotta contro il coronavirus. Coltiviamo da sempre le vostre storie. Ce ne prendiamo cura anche quando il sole è nascosto. Le facciamo germogliare fino al suo ritorno. Insieme fioriscono e prendono nuova vita. Floor Garden. Con noi la differenza si coglie.